Salve, volevo chiederle com'è la normativa riguardo alla presenza di muffa in casa. Grazie mille per l'interessante domanda. Allora, in generale il locatore deve sostenere i costi per la rimozione della muffa quando essa è conseguenza di problemi strutturali dell'edificio, ad esempio la vetustà degli impianti, salvo poi la possibilità di agire contro il condominio se il problema nasce nelle parti comuni. Il conduttore però è tenuto a comunicare al locatore in maniera tempestiva qualsiasi problema. Ad esempio, se il conduttore nota che c'è dell'umidità su una parete ma non dice nulla al locatore per mesi e mesi, fino a quando poi non si forma muffa oppure il muro inizia letteralmente a sgretolarsi, allora non potrà pretendere che il locatore si accolli le spese per la risoluzione del problema, perché il problema è peggiorato proprio a causa dell'incuria del conduttore che dovrà quindi provvedere a sue spese. Inoltre, in caso di danni permanenti, il conduttore dovrà anche risarcire il locatore. Se la responsabilità della formazione della muffa è invece del proprietario, ma questo non vuole occuparsene, il conduttore ha due opzioni. Può risolvere il contratto oppure chiedere al giudice la riduzione del canone d'affitto. Nel frattempo però dovrà continuare a pagare il canone per intero. Chiudo con un punto molto importante. Se l'inquilino accetta di entrare in un appartamento in affitto consapevole della presenza di un problema evidente, non potrà chiedere in un momento successivo che il problema venga sanato. Salvo però nel caso in cui il problema stesso abbia le potenzialità per arrecare danno alla salute, come in effetti potrebbe essere nel caso della muffa. Molto bene questo è tutto, spero che questo video vi sia utile. Alla prossima!